Ciao ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! E in questo video vi farò vedere tantissimi costumi per Halloween! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Spero tanto che vi siano piaciuti i miei costumi e devo dire che uno dei miei preferiti è questo qui, lo scheletro, è molto bello! E magari voi commentate e ditemi qual è stato il vostro preferito e ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di fare tantissimi like a questo video. E sì, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video! Ciao ciao!